Come sempre ci prendiamo qualche minuto per attendere che tutti i partecipanti si possano collegare. Come sapete questa ormai è l'ultima tappa del nostro percorso MOOC, anche se vi ricordo che probabilmente dopo questo percorso qui ce ne sarà un altro per i cittadini, però sverterà su un altro tema perché sarà sulle competenze digitali. Appena appunto, probabilmente partirà nel secondo semestre di questo anno, quindi a partire da settembre fino a dicembre. Appena avremo poi qualche informazione maggiore, come sempre utilizzeremo i canali sia della regione siciliana che del Formez per informarvi. Vi ricordo appunto che questo percorso è stato offerto dalla regione siciliana che ringraziamo per aver accolto questa proposta di poter fare un percorso per i cittadini, per informarli su quella che è tutta la nuova programmazione dell'Unione Europea. E oggi, diciamo come ultima tappa, parliamo dei primi passi nella progettazione europea nell'ambito dei finanziamenti diretti. Il relatore e la collega Raffaella Scordino, che probabilmente avrete avuto modo già di incontrare in altre occasioni, che ha una ampia esperienza in presentazione di progetti perché lei, così come me, in realtà lavoravamo all'ufficio internazionale del Formez, dove diciamo un po' la presentazione di progetti europei era il nostro pane quotidiano e devo dire anche con successo perché poi alla fine ne abbiamo vinti moltissimi. Vi ricordo pure ancora che sono in corso le lezioni di Europa, che sono quelle lezioni che noi organizziamo in partenariato con lo Europe Direct del Consorzio Universitario di Trapani e con lo Europe Direct dell'Università di Siena, dove abbiamo l'11 maggio un'ulteriore tappa per celebrare la Festa dell'Europa del 9 maggio, che ha proprio come titolo l'integrazione europea come progetto di pace. Ci saranno come sempre dei docenti universitari dell'Università di Siena, che appunto faranno un po' una ricostruzione di quelle che sono state le principali tappe che hanno poi portato a questo progetto di pace in Europa. Avremo di nuovo tra i relatori il professor Pasquinucci, che voi avete avuto modo di conoscere in una delle tappe iniziali di questo percorso MOOC. Le ultime tre tappe delle lezioni di Europa invece sostanzialmente sono una ripetizione delle tappe di questo percorso qui, perché parleremo di nuovo di fonti di informazione, parleremo di nuovo di una panoramica sui finanziamenti diretti, con una piccola differenza, che in questi giorni stanno approvando nuovi strumenti finanziari, quindi li stanno adottando ufficialmente e quindi potremmo dare qualche piccolo aggiornamento rispetto alla puntata che abbiamo fatto la scorsa settimana. E poi ci sarà di nuovo Raffaella che parlerà di progettazione. Quindi essenzialmente per voi quella che può essere utile la tappa della prossima settimana, quando appunto faremo la seconda puntata della festa dell'Europa con questa nuova sezione. In più vi devo dire una cosa, il 4 maggio abbiamo organizzato l'evento nazionale di lancio della piattaforma della conferenza sul futuro dell'Europa. Vi volevo informare che prevediamo un'ulteriore tappa di presentazione della conferenza sul futuro dell'Europa il 18 maggio e questa tappa verrà organizzata nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta, dove ci sarà un relatore, sempre della Commissione europea, in realtà da Bruxelles parlerà il coordinatore delle reti europee, che appunto farà un focus sulla conferenza sul futuro dell'Europa, ma poi avremo anche dei relatori del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento per le riforme istituzionali, dove parleranno di partecipazione gli strumenti per la partecipazione a livello nazionale. Il programma non è stato pubblicato, ma lo sarà a breve, quindi tra pochi giorni, quindi come sempre seguite i nostri canali per essere aggiornati su questo evento, quindi vi consiglio di guardare su sia eventi.pa.formes.it come sempre vi ricordo anche di scrivervi alla newsletter disponibile sul sito europa.formes.it e in più questo evento sarà pubblicizzato sul portale IGOV del governo, dove appunto verranno dati tutte le informazioni relativi a tutti gli eventi che saranno organizzati in occasione della settimana aperta. Lo sito di riferimento è open.gov.it. Diciamo che io avrei terminato questa breve presentazione, come sapete alla fine di questo percorso verranno certificate le vostre frequenze e poi vi sarà rilasciato un testato di partecipazione. Non ce le chiedete dal giorno dopo perché dobbiamo un attimo elaborare i dati, quindi non saranno sicuramente disponibili prima di un paio di settimane. Vi ricordo però prima di poter procedere all'attestazione delle presenze di compilare l'anagrafica così come più volte vi ha ricordato Fabio Ballor attraverso il forum. Tra l'altro essendo questa l'ultima puntata volevo approfittarne per ringraziare anche tutto lo staff che ha lavorato in back office all'organizzazione di questo percorso MOOC, quindi ringrazio Fabio Ballor, Giorgia Gasbarro, ringrazio anche Marta Ferrantelli, comunque tutto lo staff del Formez che ha contribuito alla buona riuscita di questo percorso. Ora lascerei la parola a Raffaella perché non voglio sottrarle tempo prezioso visto che l'argomento oggi è molto interessante. Grazie Claudia, buongiorno a tutti e bentrovati. Io ti inviterei Claudia poi se vuoi restare in video comunque a intervenire e integrare perché appunto Claudia raccontava dell'esperienza che abbiamo condiviso quando c'era l'ufficio attività internazionali del Formezo, quindi abbiamo affiancato le pubbliche amministrazioni sia centrali che locali insieme proprio per promuoverne quanto più possibile la partecipazione all'iniziativa, ai progetti comunitari, ai progetti europei. Quindi Claudia ti invito a integrare dove ritieni, a partecipare insieme a me a questa chiacchierata introduttiva proprio sui primi passi della progettazione europea, come presentare un progetto europeo. Quello che cercheremo di vedere oggi insieme nella chiacchierata che faremo insieme sono innanzitutto un po' una caratteristica di quelle che sono o comunque una panoramica dei requisiti che devono avere i progetti europei perché l'Unione Europea, perché la Commissione li ritenga finanziabili e possa erogare appunto il relativo contributo. Parleremo quindi delle call for proposal, ne vedremo alcuni esempi, lo faremo con un approccio molto pratico, cioè navigheremo insieme se la connessione ce lo consente e se non ci saranno problemi, cercheremo di vedere insieme il portale U-Tender della Commissione Europea dove si trovano tutte le call for proposal e cercheremo appunto di esplorarlo, di navigarlo insieme vedendone le diverse sezioni. Parleremo ovviamente del partenariato già negli appuntamenti precedenti in cui la collega vi ha parlato dei programmi comunitari e vi ha parlato anche delle fonti di informazione, c'erano state da parte vostra molte domande proprio su come si costituisce un partenariato, quindi oggi cercheremo di vedere un po' quelle che sono le caratteristiche che deve avere un partenariato, che è un elemento strategico, oggetto di valutazione, quindi è appunto un elemento molto importante nell'ambito della proposizione di proposte progettuali europee e poi faremo solamente un richiamo ad alcuni spunti metodologici che vi suggeriamo di vedere e di approfondire proprio perché sono fondamentali per garantire diciamo una buona qualità delle proposte progettuali e come vedremo la Commissione punta molto su criteri di qualità che appunto vedremo insieme fra un pochino. E poi in ultimo un accenno alla parte finanziaria, al budget, il budget è la traduzione in termini finanziari di tutta la parte tecnica delle attività che realizziamo, quindi vedremo appunto un po' quelle che sono le spese ammissibili e quelli che sono i principi generali. Quindi riprendendo un po' quella distinzione che aveva fatto, che vi aveva introdotto la collega negli appuntamenti precedenti, noi ci collochiamo qui nell'ambito dei programmi tematici che sono una componente dei finanziamenti a gestione diretta, l'altra componente è quello dell'assistenza esterna di cui ovviamente non parleremo, forse potremo prevedere un appuntamento futuro per fare un aggiornamento dei programmi di assistenza esterna, sempre a gestione diretta nel corrente periodo di programmazione. Ricordo che come Centro Europe Direct avevamo anche organizzato un webinar nel 2018 proprio per presentare i programmi e come funzionano i finanziamenti di questi programmi di assistenza esterna, chissà che non si riesca a fare un aggiornamento anche per il 21-27. Dicevo oggi quindi ci concentriamo sui programmi tematici, quei programmi che ampiamente ed esaustivamente vi ha presentato Claudia Salvi nell'appuntamento precedente, programmi tematici che appunto sono quegli strumenti finanziari attraverso cui l'Unione Europea promuove, finanzia, sovvenziona come vedremo breve, una serie di iniziative di azioni progettuali per raggiungere obiettivi prefissati che si è data nei diversi ambiti di competenza, nelle varie tematiche di competenza. Quindi programmi nell'ambito del quale a differenza dei fondi a gestione in diretta, quindi dei cosiddetti fondi SIE, in questo caso si crea un legame contrattuale diretto attraverso la Commissione Europea, nelle direzioni competenti che gestiscono i diversi programmi tematici o agenzie delegate tecniche della Commissione e appunto il beneficiario, il proponente della proposta che diventa appunto il beneficiario del finanziamento. Per intenderci parliamo di tutti questi programmi, ci riferiamo alla presentazione di proposte progettuali nell'ambito di questi programmi che la collega vi ha presentato la volta precedente, vi segnalo proprio l'aggiornamento quasi in tempo reale che fa proprio Claudia perché come vedete quelli segnalati sono quelli già approvati, tutti gli altri sono ancora proposti e come vedete nel titolo che rega tra parentesi appunto la precisazione che ancora l'atto definitivo regolamentare non è stato pubblicato in gazzetta ufficiale, però vi segnalo che Claudia proprio ieri ha come vedete aggiornato il programma giustizia che non è più una proposta e che è diventato, è stato appunto approvato unitamente a quello cittadini uguaglianza diritti e valori. Rispetto al programma giustizia vedremo oggi un esempio di colla, ne vedremo uno anche del programma Erasmus e cercheremo di scorrerle insieme per vedere un po' le caratteristiche che richiede la Commissione europea nelle diverse, nei diversi bandi, nelle diverse call for proposal. Parlando di progetti europei ovviamente ci riferiamo a quei progetti che ricevono delle sovvenzioni dalla Commissione europea e quindi precisiamo che ci riferiamo esclusivamente alle sovvenzioni e non ai cosiddetti tender, alle gare di appalto. In questa slide non so se è ben leggibile, mi auguro di sì, comunque si vede bene la differenza fra le due tipologie, ovviamente la sovvenzione, come già vi aveva accennato la collega nell'appuntamento dedicato alle fonti di informazione, la sovvenzione intanto ha una natura prettamente istituzionale, quindi ha un obiettivo istituzionale perché con un approccio dal basso va a sovvenzionare progettualità che appunto vengono al basso per il raggiungimento di obiettivi che però sono istituzionali, gli obiettivi specifici che si prefigge ciascun programma nell'ambito tematico di riferimento, diversamente invece dai tender, dalle gare di appalto che invece hanno una natura commerciale quindi destinata all'acquisizione di beni servizi o alla realizzazione di opere. Nel caso delle sovvenzioni e quindi dei grant, iniziamo a usare questo termine che appunto in inglese si dice grant e questo è il linguaggio che usa la Commissione europea, nel caso del grant ovviamente il proprietario, il titolare dei risultati raggiunti è ovviamente il beneficiario, il consorzio beneficiario della sovvenzione, mentre nel caso delle attività commerciali attraverso i tender è dell'autorità contraente, della contracting authority come si dice. Il finanziamento è diverso perché negli interventi di natura commerciale, quindi nelle gare d'appalto viene finanziato al 100%, le sovvenzioni come già vi è stato anticipato e come rivedremo meglio oggi prevedono assolutamente un cofinanziamento, normalmente il cofinanziamento come vedremo della Commissione si attesta tra il 50 e il 90% e quindi questo vuol dire che la quota residua deve essere resa disponibile a cura dei beneficiari del finanziamento e quindi dei proponenti delle proposte progettuali. La procedura che oggi vedremo che si riferisce alle sovvenzioni appunto è quella delle call for proposal, cioè dell'invito a presentare proposte, diversamente dalla call for tender, l'invito a presentare offerte nel caso della gara d'appalto. E poi soprattutto la sovvenzione non consente una finalità di lucro, proprio perché è per finalità istituzionale, quindi se un intervento progettuale come vedremo più avanti che per qualche motivo dovesse generare dei margini per i beneficiari, per il consorzio proponente, questi dovranno essere dedotti poi dalla quota di sovvenzione dell'Unione Europea, proprio perché non è consentito diversamente invece dalle gare di appalto. E quindi vedete appunto come la sovvenzione è un approccio dal basso, perché con queste call for proposal, la Commissione Europea invita tutti i soggetti a livello UE di tutti gli Stati membri a presentare progettualità dal basso, che quindi rispondano a esigenze, al soddisfacimento di esigenze, di bisogni che hanno, per il raggiungimento però di obiettivi istituzionali che sono quelli specifici di ciascun programma. E quindi come vedremo a breve nel caso della sovvenzione, quando presentiamo una proposta progettuale, i criteri principali sono appunto di natura qualitativa e vedremo che cosa si intende per qualità a breve, quindi incidono molto alla qualità della proposta, l'aspetto finanziario come vedremo incide, ma incide un pochino meno rispetto invece a quello dei tender dove appunto è oggetto di valutazione la qualità della proposta insieme all'offerta economica e come vedete come ho già detto c'è un finanziamento del 100%. In questa slide vi ho rappresentato nella parte superiore un ciclo di gestione del progetto che probabilmente già conoscete, anzi magari vi chiedo in chat un feedback, chi di voi già è a conoscenza insomma di di queste che ha mai parlato di Project Cycle Management, a conoscere insomma la perfetto, immagino che molti di voi, la maggior parte di voi li conoscerà e questo richiamo è proprio per intanto sottolineare l'importanza di adottare nello sviluppo di una proposta progettuale, come suggeriremo a breve e come vedremo a breve, proprio degli strumenti metodologici che ci aiutino a puntare sulla qualità del progetto. E in questo slide appunto vediamo il ciclo di gestione del progetto che parte dalla programmazione che è quella che fa la Commissione Europea annualmente o su base annuale o multiannuale come vedremo e poi c'è la fase di identificazione e di formulazione che coincide fondamentalmente rispetto all'iter progettuale che vi ho riportato giù proprio con la formulazione dell'idea progetto a cura del partenariato. Perché sono tratteggiate queste caselline dell'idea progetto e del partenariato? Le ho volute tratteggiare appositamente proprio per mettere in evidenza come in realtà non sono fasi distinte di questo iter progettuale, ma l'auspicio della Commissione è sempre altamente raccomandato e lo vedremo anche specificamente in una call come lo richiedano, che i partner siano attivamente coinvolti nella formulazione dell'idea progetto. Cioè l'idea progetto come vedremo non deve essere, è un elemento che richiede molto rigore metodologico e non deve essere come dire un esercizio tra virgolette desk, ma come vedremo poi con degli spunti metodologici che vi invitiamo ad approfondire in autonomia, richiede proprio, soprattutto per quanto attiene alla fase di identificazione e formulazione, ci si riferisce proprio alla fase di un po' quella che è la progettazione di massi, ma che scaturisce dall'analisi del contesto, dall'analisi dei problemi di un contesto che vogliamo risolvere e dalla cui formulazione in termini positivi, si evincono, si derivano gli obiettivi che il progetto vuole raggiungere. Poi con la fase di formulazione, dalla fase di identificazione si passa alla fase di formulazione e quindi da una progettazione di massima scaturita da questo lavoro fondamentale di analisi dei bisogni che il progetto vuole andare a risolvere, a incidere, a cui vuole produrre una soluzione fondamentalmente dobbiamo arrivare e scendere a un livello operativo di dettaglio maggiore, quindi a una progettazione esecutiva che coincide proprio alla preparazione vera e propria del progetto, cioè alla definizione di quelle attività che determinano con un nesso di causalità determinati risultati che concorrono al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati. Fondamentalmente con la fase di formulazione e di progettazione esecutiva definiamo quella che è la logica di intervento del nostro progetto e questo come vedremo nelle call è considerato un elemento di forte attenzione di cui la Commissione ovviamente presta particolare attenzione nel valutare le proposte meritevoli di ricevere una sovvenzione. Dicevamo dopo la fase di formulazione c'è la fase appunto del finanziamento, quindi la Commissione europea come vedremo lancia queste call for proposal attraverso il portale che visiteremo insieme a breve e coincide per quanto riguarda l'iter progettuale ovviamente alla presentazione della proposta da parte del consorzio proponente, insomma del partenariato e in caso di aggiudicazione si procede con la fase di contrattualizzazione che porta quindi dal finanziamento alla realizzazione, cioè si prepara il grant agreement, il contratto, l'accordo contrattuale che disciplina l'implementazione delle attività progettuali, quindi un accordo tra la Commissione europea rappresentata dalla DG competente e il partenariato rappresentato dal capofila, dal lead partner come vedremo a breve, viene definito questo impegno contrattuale, questo grant agreement agli esiti del quale poi parte la fase di realizzazione, quindi di implementazione delle attività progettuali e che deve essere in qualche maniera diciamo regolamentata, disciplinata da un consortium agreement come si suole definire o un partner agreement, cioè un accordo fra tutti i partner che chiarisca bene ruoli, compiti, funzioni e responsabilità di ciascuno rispetto alle attività progettuali che sono sovvenzionate dall'Unione europea e poi vediamo come il ciclo di progetto si chiuda con la valutazione di questi progetti, di cui esiti scaturiscono normalmente elementi per riprogrammare, quindi che la Commissione utilizza per riprogrammare l'implementazione nei diversi piani di lavoro annuali, l'implementazione appunto del programma. Per presentare una proposta di progetto è fondamentale, qui vedete un po' tutti i documenti di riferimento, ovviamente si deve partire dal programma, quindi dal regolamento che istituisce il programma tematico che a noi interessa, che tratta appunto il tema nell'ambito del quale operiamo e vi ho segnalato in giallo il programma di lavoro che può essere per alcuni programmi annuale, per altri programmi su base pluriannuale, quindi può essere biennale, quadriennale. Questo programma di lavoro è fondamentale, quindi un primo suggerimento che ci sentiamo di darvi, una volta che voi operate in un settore e quindi avete un'idea che volete sviluppare, andate subito ad approfondire, come già vi suggeriva Claudia Salvi negli appuntamenti precedenti, il programma, dovete conoscere bene il programma, quelle che sono le sue priorità, gli obiettivi che si prefigge, è il programma, è relativo programma di lavoro, proprio perché disciplina, declina, specifica bene, dettaglia come la Commissione intende attuare gli obiettivi di quel programma nelle diverse annualità, quindi c'è anche una programmazione finanziaria, si dice nelle diverse annualità, con che procedura andrà a erogare le sovvenzioni a finanziare i diversi interventi. Il programma di lavoro ovviamente è disponibile insieme alla decisione di approvazione sul sito web della direzione generale della Commissione competente per quel programma tematico e fondamentalmente poi anche sul portale dei partecipanti che vedremo a breve. Il testo del bando, quindi per intenderci la call for proposal, come la chiama la Commissione europea, di cui vedremo a breve, leggeremo insieme due esempi di call, che è fondamentale perché ci dice tutta una serie di informazioni preziosissime, quindi una lettura attenta del bando, della call for proposal, incrociata con una precedente conoscenza, approfondimento di quello che prevede la decisione di approvazione del programma e soprattutto il programma di lavoro attuativo per diverse annualità, sono come dire, vi forniscono il contesto fondamentale da cui partire per poi elaborare le vostre proposte progettuali, perché come vedremo a breve, uno dei criteri che la Commissione adotta è proprio di valutare l'aderenza della proposta progettuale alle priorità che si prefiggono i diversi programmi. Si parla in tal senso proprio di rilevanza, il criterio della rilevanza che vedremo a breve. E poi sul portale dei partecipanti ci sono tutta una serie di documenti utili, intanto la guida per i candidati che è la guida proprio che accompagna, che fornisce tutte le informazioni necessarie ai proponenti rispetto appunto alle specificità dei diversi programmi. E il formulario, questa è un po' una novità perché in precedenza le proposte progettuali venivano trasmesse cartacee e quindi dovevano essere trasmesse diversamente, ora invece il formulario è online attraverso il portale che cercheremo di navigare in diretta insieme. Quindi dicevamo fondamentale l'invito a presentare proposte che ci definisce le finalità, gli obiettivi, lo scopo che si prefigge la call, definisce quali soggetti possono presentare, quindi quelli che possono essere beneficiari, i soggetti che possono proporre, lo vedremo, che caratteristiche devono avere, che requisiti minimi devono avere, in termini numerici, in termini di distribuzione geografica, cioè di coinvolgimento minimo di stati membri, perché è un elemento che forse ho messo di precisare prima, che i programmi tematici prevedono come elemento fondamentale che hanno una natura trasnazionale, quindi il partenariato deve necessariamente essere trasnazionale e quindi coinvolgere più stati membri o, come vedremo più avanti, più stati di quelli aderenti associati al programma. Insomma, poi dicevamo, la call ci dice la dotazione finanziaria che è disponibile per la specifica call, i criteri di selezione delle proposte e di aggiudicazione delle proposte e poi proprio le procedure, i termini per la presentazione delle proposte. Questo è un esempio di call che temo non vediate purtroppo perché le slide sono in PDF, il PowerPoint oggi la piattaforma non lo gradiva e quindi abbiamo dovuto ripiegare su delle slide in PDF, però vi proporrei, se siete d'accordo, di analizzare insieme due fish, due esempi di call for proposal, scorrendole molto rapidamente e prescindendo dalle tematiche. Io ricordo che qualche partecipante negli appuntamenti precedenti aveva manifestato interesse per il programma LIFE, quello il programma che copre quindi le tematiche del clima e dell'ambiente. Purtroppo non ce ne sono, non sono neppure ancora di prossimo avvio, non ne ho trovate, per cui vi presenterei, se siete d'accordo, una, scorrerei insieme a voi molto rapidamente, una call for proposal nell'ambito di questo programma Justice che notate è, e questo infatti è l'indice che vi riproponevo nella slide, e vi sottolineo che non entriamo nel merito del tema perché ovviamente voi avrete interessi diversi, non so chi di voi possa avere interesse per operi nell'ambito giudiziario, quindi possa avere interesse ad approfondire il tema della cooperazione in questo settore, gli obiettivi specifici del programma, quindi ovviamente prescinderemo dal tematismo, ma scorreremo come dire il framework, la cornice, la struttura di questa call per vedere come sono strutturate, cosa richiedono e soprattutto come dobbiamo leggerle, a quali elementi prestare attenzione, in realtà dobbiamo prestare attenzione a tutto e leggerle molto molto attentamente. Quindi dicevo questo è un po' l'indice, come vedete definisce il background, quelli che sono gli obiettivi che si prefigge la call e quindi da qui si misura poi come vedremo fra un pochino la cosiddetta rilevanza, viene valutata la rilevanza del progetto, cioè l'aderenza della nostra proposta progettuale agli obiettivi che si prefigge la commissione con il lancio della specifica call e quindi appunto le tematiche le attività che possono essere finanziate, quindi questo lo dobbiamo leggere attentamente stando attenti appunto a non proporre attività che già sappiamo che la call non prevede e poi appunto il budget è disponibile, la tempistica e le deadline, i criteri di ammissibilità, di elegibilità e quant'altro e lo vedremo scorrendo brevemente. Io per cercare di facilitarvi la lettura ho cercato di sottolineare alcuni elementi, ovviamente ripeto non entriamo nel merito, questo specifico è una call for proposal per azioni per supportare progetti trasnazionali per rafforzare la tutela dei diritti delle persone sospettate o accusate di crimini e i diritti delle vittime di crimine, quindi una tematica molto specifica, ne siamo consci, però ripeto la struttura, gli elementi di questa fiche si ritrovano anche in tutti gli altri programmi con alcune peculiarità, ma le strutture come vedremo sono le stesse. e vi segnalo appunto intanto come la stessa call, un primo step importante, come vedremo anche più avanti, per presentare un progetto è molto utile, lo consiglia per esempio come vedete qui evidenziato la call stessa e consultare sul sito dove trovate la call anche la sezione progetti finanziati precedentemente, perché è molto utile conoscere i progetti che il programma ha finanziato precedentemente, per in qualche maniera dimostrare anche in fase di formulazione del progetto che siamo a conoscenza di quello che è stato realizzato e che non proponiamo delle ripetizioni, anche perché come vedremo scoprire i progetti finanziati e sul sito, lo vedremo a breve, c'è proprio una sezione, un database, è possibile anche vedere non solo i progetti già finanziati che i risultati hanno raggiunto, ma anche con che importo finanziario e con quale partenariato, quindi questo ci potrebbe aiutare anche per trovare nuovi partner alla nostra idea progettuale, è una cosa molto importante che vi sottolineiamo, perché coinvolgere partner che hanno già avuto esperienza su quello specifico programma ci facilita molto, vuol dire che conoscono già le regole del gioco, vuol dire che conoscono già le priorità del programma, quindi può essere assolutamente un plus, un valore aggiunto. Torniamo un po' appunto a scorrere rapidamente la call, come vedete, quindi c'è tutta una sezione di background che qui noi ovviamente sorvoliamo perché abbiamo detto che nel tema non entriamo, definisce quelli che sono gli obiettivi e le priorità di questa call, nello specifico dice che questa call per gli anni 2021-2022 sono rafforzare l'applicazione del diritto penale con riferimento alle tutele delle persone accusate o sospettate di un crimine, quindi la parte del procedimento giudiziario e l'altra priorità è quella della tutela dei diritti delle vittime. Allora, in giallo vi ho segnalato gli elementi positivi, cioè quelli che il progetto, gli elementi da considerare, in rosso gli elementi critici. Qui per esempio vedete, ovviamente è tutto in inglese, questa era un po' la premessa, sia il portale che vedremo, che i documenti di progetto, trattandosi di progetti europei, di progetti trasnazionali, ovviamente la lingua di lavoro e l'inglese, tutti i documenti, i documenti dei programmi sono tutti in inglese. E quindi vedete che qui per esempio dice che i progetti devono assicurare dei benefici pratici e un impatto attraverso adottando un approccio che sia sensibile alle questioni di genere per dei target group, sarà valutato positivamente, più favorevolmente, più positivamente rispetto a quei progetti più teorici che consistino in attività di ricerca o in attività di analisi, in attività analitiche. Quindi già questo è un primo suggerimento, vogliono progetti che siano di impatto concreti e non progetti teorici di ricerca o di analisi, in questo caso. Vediamo invece che poi in altre call le azioni di studio e analisi sono magari finanziate. Ecco perché è importante leggere ciascuna call, perché ogni call è a sé, diciamo che è detta le regole specifiche a cui dobbiamo attenerci. I progetti valutati positivamente di successo dovranno assicurare una facile accesso e una più ampia disseminazione dei risultati. Quindi noi già a questo è un altro elemento, dobbiamo prestare particolare attenzione nell'elaborazione della nostra idea progettuale alla componente valorizzazione e disseminazione dei risultati delle attività progettuali, perché evidentemente presteranno particolare attenzione a questo aspetto. Ancora in rosso, quindi elemento di criticità, i progetti fondamentalmente di monitoraggio della trasposizione legale degli strumenti in ambito nazionale non saranno finanziati. Quindi anche qui una lettura attenta del bando ci dà un po' le dritte su il taglio che dobbiamo dare alla nostra idea progettuale. Scorriamo ancora, perché qui c'è tutto un richiamo delle direttive di riferimento e ovviamente noi prescindiamo dalla tematica e quindi vado avanti. Vi segnalo che le attività... Claudia, vuoi aggiungere qualcosa? No, volevo solo dire una cosa. Stai facendo vedere giustamente un invito a presentare proposte in inglese e in genere vengono pubblicate in lingua inglese, però tenete presente che alcuni di questi vengono pubblicati in gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Quando vengono pubblicati in gazzetta ufficiale in realtà riuscite a trovare il testo anche in italiano. Però poi chiaramente tutti gli altri documenti che sono la guida per i proponenti e il formulario poi diventa in inglese, però può essere una facilitazione. Il problema è che non tutti gli inviti a presentare proposte vengono però pubblicati sulla gazzetta ufficiale. Solo questo volevo ricordare questo piccolo... No, no, è fatto benissimo, però appunto come dici poi la formulazione del progetto, il form, l'application form in inglese è tutto in inglese e quindi tanto vale familiarizzare anche con i documenti di programma insomma in inglese e ci può essere utile poi per quando. Comunque a volte, come diceva Claudia, si può trovare anche la versione in lingua madre e in italiano e quindi sicuramente è un elemento di facilitazione. Allora, qui il progetto elenca le attività che possono essere finanziate rapidissimamente, mutual learning, quindi apprendimento reciproco, scambi di buone pratiche, sviluppi di metodi di lavoro che possono essere trasferibili agli altri paesi partecipanti, o sistemi informativi di sviluppo, di sistemi informativi, di condivisione delle informazioni, capacity building, quindi accrescimento delle cose, senza entrare nello specifico, una serie di attività, quindi ve lo segnalo perché dobbiamo... le FISH sempre precisano le attività che possono essere finanziate e quindi grande attenzione a questa parte. Ancora in rosso viene precisato che il funzionamento di uno normale, ordinario di un'organizzazione o il setup, quindi la creazione di una nuova organizzazione, non può essere finanziata. Qui ci sono rappresentati gli impatti attesi, quindi i risultati attesi che il programma si attende dai progetti presentati a Valere su questa collo, sono distinti per una priorità per l'altra, ripeto, prescindendo dal tema, non li vedremo. Budget disponibile, come vedevamo prima, la collo indica appunto il budget che è disponibile, quindi questa specifica, con una dotazione di 6 milioni e 200 mila euro, questa è la capienza massima, saranno finanziati i progetti fino a concorrenza, fino a capienza di questo importo. Come vi segnalavo prima, questo è uno delle call for proposal che ancora deve essere lanciata, probabilmente sarà lanciata la settimana prossima. Questo perché ve lo dico? Perché molto spesso quando navigheremo sul sito, lo vedremo, i bandi, le call for proposal si possono trovare sia per stato, quindi sia in stato aperto che in stato di prossimo lancio, di previsione, questa nello specifico era già da un po' che era prevista. Quindi andare a chiarita un po' l'idea che abbiamo, l'ambito, cioè l'idea progettuale che vorremmo sviluppare nel nostro ambito di competenza. Il suggerimento è di andare a vedere sempre, di consultare sempre il portale, proprio perché ci aiuta a volte a giocare d'anticipo, cioè vedere pubblicata in anticipo rispetto alla data effettiva di lancio e quindi da cui si deve partire per presentare la proposta può essere utile perché ci fa guadagnare tempo fondamentalmente. Poi vedete appunto le scadenze, questa si apre il 12 maggio, le proposte dovranno essere trasmesse entro il 9 settembre, ore 5, ore 17, ora di Bruxelles. Ci dice un po' il timing della tempistica del processo di valutazione e quindi chiusa la deadline il 9 settembre, il termine ultimo per presentare le proposte, poi ci sono di solito tre mesi che a volte possono essere anche di più, tre mesi settembre e dicembre il processo di valutazione che di solito viene effettuato da un pool di esperti esterni, cioè dalla direzione coadiuvata, dall'autorità contraente coadiuvata da un pool di esperti indipendenti in terzi. Tra dicembre e gennaio dell'anno successivo è prevista la comunicazione degli esiti e gli esiti vengono comunicati a tutti con una lettera, sia in caso di esito positivo che in caso di esito negativo e poi è prevista la firma del grant agreement, quindi del contratto che dicevamo il lead partner, il capofila a nome del consorzio di partner, firma con la Commissione europea per sottoscrivere l'impegno contrattuale alla realizzazione delle attività e alla fruizione della sovvenzione, previsto appunto tra gennaio e marzo. Vi segnalo che questa firma del grant agreement è un po' una fase di, come vedremo fra un po' di negoziazione, perché una volta che la proposta viene valutata positivamente, poi in realtà la preparazione del contratto, ma lo vedremo con le prossime slide, lo vedremo fra un po', la preparazione del grant agreement prevede anche la finalizzazione della proposta progettuale, quindi la Commissione può anche ritenere che il progetto è valido, ma che vuole apportare delle modifiche e quindi o soprattutto per esempio budgettarie, come vedremo nella parte in cui ci occuperemo della parte finanziaria del budget, insomma possono essere negoziate delle modifiche, quindi il grant agreement è la fase di negoziazione del contratto e quindi di finalizzazione della parte tecnica del grant agreement che è il nostro progetto e il suo budget. Le proposte devono essere trasmesse elettronicamente, dicevamo questa è un po' una novità fino, peraltro novità relativa perché è da tanti anni che è così, ma per fortuna, non so se Claudia conferma, ma è un po' più semplice avere tutto elettronico, controllarlo. Claudia? Sì, principalmente la... alle CAS, diciamo ci siamo un po' capitati anche noi, perché noi per poter diventare direttamente solitamente dobbiamo in realtà dispendere a un bando e mentre nei anni precedenti avevamo sempre dovuto fare una procedura lunga, abbiamo notato che con la partecipazione all'ultimo invito alle proposte è stato molto più semplice, perché i nostri dati ormai erano memorizzati del sistema della Commissione e diciamo tutti quelli che erano i dati relativi all'ente, partita IVA, non li abbiamo dovuti compilare più, perché ormai stanno nella memoria della Commissione Europea. Quindi si fa la fatica la prima volta, ma poi dopo, a meno che uno non abbia bisogno di modificare o aggiornarli, in realtà restano in memoria e quindi in realtà un passaggio viene semplificato, ma la Commissione Europea per questo nuovo periodo di programmazione sta tentando molto di semplificare le procedure e anche di accorciare i tempi. Il primo esempio di tempi corti li abbiamo avuti con i bandi che sono stati pubblicati in seguito all'emergenza Covid nell'ambito del programma Horizon 2020 ha pubblicato nel mese di marzo quando poi c'è stato lo scorso anno della pandemia, dei bandi che innanzitutto sono stati pubblicati in maniera molto veloce su un argomento che non era previsto, ma anche la fase di aggiudicazione e quindi le fasi successive sono state velocissime, questo per consentire a tutte le industrie farmaceutiche che avevano bisogno di effettuare ricerche per creare i vaccini, di poter rispondere immediatamente al mercato e i risultati li abbiamo visti, perché ora i vaccini ci sono e se i vaccini ci sono è grazie anche a questo grosso finanziamento da parte di Horizon destinato alla ricerca sia per i vaccini ma anche per le cure, perché non ci dimentichiamo che nel frattempo sono migliorate anche le cure e anche lì si è trattato di finanziamenti nell'ambito della ricerca finanziata con Horizon. Assolutamente, grazie per questa integrazione e precisazione anche perché poi dispiace che magari non sempre si è consapevole, anzi spesso si polemizza e c'è una distorsione dell'informazione pubblica e si dice magari che per colpa di come l'Unione Europea ha fatto i contratti, la Vox Populi si vocifera che per come ha fatto l'Unione Europea i contratti con le grandi società per i vaccini in realtà abbia fatto, invece appunto non abbia operato bene, invece è importante proprio dire il grande sforzo che ha fatto la Commissione in questa fase delicatissima e quindi un'informazione accurata e precisa è assolutamente fondamentale su questo per restituire non fosse altro onestà, per onestà intellettuale, restituire insomma la verità sull'operato che fa la Commissione Europea. Quindi dicevamo le proposte devono essere trasmesse elettronicamente, non è possibile l'invio cartaggio che invece era previsto diciamo era a prassi fino a qualche anno fa, ma poi il fatto di trasmetterlo elettronicamente veramente con un clic uno controlla l'esito nel momento in cui fa il clic di invio, di submission, quindi di invio della proposta riceviamo la nostra mail di notifica che ci conferma e possiamo poi vedere sulla piattaforma lo stato, insomma è un elemento di semplificazione anche perché sul sito è importante precisarlo, su questo portale poi come vedremo ci sono una serie di sezioni molto utili, intanto c'è una sezione FAQ, per cui una cosa importante che vorrei dirvi è se per esempio avete dei dubbi su una call o sull'interpretazione, sul significato di una parte dell'avviso, della call for proposal e non trovate un'eventuale risposta nei documenti che vengono forniti a supporto e che poi vedremo, quindi la guida del programma, il manuale online del portale che vi guida step by step su come procedere, quindi diciamo che è difficile avere delle domande senza risposta, ma se uno dalla lettura dei documenti non dovesse trovare una risposta a un proprio quesito potete sempre fornire perché c'è sempre un'email di riferimento, potete formulare il vostro quesito e il vostro quesito confluisce nella sezione FAQ che per trasparenza ovviamente è resa disponibile a tutti, quindi tutti i proponenti possono visualizzare nella sezione FAQ i quesiti ed eventuali e si socializzano le risposte che l'autorità contraente dà per trasparenza sul portale a tutti i proponenti interessati. Ecco poi come dicevamo, online poi lo vedremo, c'è una sezione, una parte A che contiene tutte le informazioni amministrative, anagrafiche amministrative del consorzio, quindi il consorzio intendiamo il coordinatore, l'ente capofila e i diversi altri beneficiari, diversi altri partner e quindi questa operazione la fa il capofila che deve compilare tutti i dati per quanto riguarda tutti i partner, tutti i partner che però devono essere precedentemente registrati al portale, questo lo vedremo fra un po' perché quando ogni organizzazione o ogni ente, ogni soggetto che è elegibile a presentare le proposte e vuole procedere con la presentazione della proposta, si deve registrare al portale e viene dato un PIC che è un codice identificativo, che è appunto l'identificativo con cui la Commissione Europea che attribuisce, identifica, riconosce quella determinata organizzazione. Raffaella se ti interrompo, però vedo che ci sono un paio di domande, normalmente le facciamo alla fine, però oggi direi che facciamo il corso perché sono in realtà poi esattamente... Allora Mara Massa ci fa due domande, cosa intende con il termine FISH? Sì, no no, fai... In termine FISH in realtà è la call for proposal, si dice FISH, io sono arrivata ancora alle FISH dei nostri progetti di gemellaggio, dei nostri tuini, che sono degli strumenti di capacità di bambino, su cui abbiamo lavorato tanto, fondamentalmente è il bando, la call for proposal, ogni tanto dico FISH, ma è il documento di avviso, diciamo. No no, potete salvare assolutamente, potete salvare, vi salva tutto, poi c'è anche un desk, un help desk, quindi se doveste avere problemi di natura prettamente informatica, c'è un desk a vostra disposizione, noi per esempio, Claudia, non mi ricordo che problema abbiamo avuto quando abbiamo presentato la richiesta di subvenzione, quindi la nostra proposta progettuale come Europe Direct, avevamo incontrato dei problemi informatici, subito i sistemi informativi, abbiamo mandato un'email rigorosamente in inglese, ma ti hanno risposto subito. Mi sentite? Mi sentite? Datemi anche un feedback in… sì. No, volevo raccontare questa cosa che ci è capitata, perché questo è importante anche per voi. Non ti si sente tanto bene, forse, Claudia, sai, forse non ti si sente bene. La registrazione al sistema ECAS non l'avevamo fatta noi, l'aveva fatta qualcuno e noi non sapevamo chi all'interno dell'azienda. Il problema… e quindi noi, tanti anni fa… Esatto, e noi avevamo bisogno di cambiare la denominazione e quindi avevamo bisogno di avere la password… Tanti anni fa… Precisa, lo tanti anni fa quando Formez aveva un'altra denominazione e quindi per la modifica di questa informazione. E non sapevamo, non riuscivamo a capire chi l'aveva fatta, anche perché i detentori, noi pensavamo fosse lo staff dell'ufficio internazionale, ufficio internazionale che nel frattempo a Formez è stato chiuso e diciamo io e Raffaella eravamo l'ex staff dell'ufficio internazionale, ma l'ufficio internazionale si appoggiava molto anche su molti collaboratori, quindi persone che attualmente non lavorano più per i Formez e quindi eravamo terrorizzate dal fatto che questa password fosse conservata da qualche collega che non lavorava più con noi. Invece la fortuna ha voluto che mentre mandavamo le varie mail risultava come, diciamo, un punto di contatto, esatto, esatto, lega lenti di appunti di rappresentativi, appunto era quello che doveva rappresentare il mio attuale dirigente e quindi l'ho messo qui in chat, Claudia, lì era lì galenti di appunti di rappresentativi, perché questa è proprio la definizione. Era stato poi finanziato per Asmus in partenariato con il comune di Barcellona e io riuscì a risalire al fatto che lì galenti di appunti di rappresentativi era lui, perché ho visto questo progetto e credo che lui aveva partecipato a questo progetto e poi abbiamo scoperto che era lui la persona che aveva fatto la richiesta dell'Ecas, quindi ha potuto mandare la mail per il recupero della password e poi ora ha recuperato questa password e la custodiamo noi. Che cosa abbiamo fatto? In realtà abbiamo fatto anche un passaggio in più, che sappiamo in questo momento essere inutile, ma se qualcuno ci ragionasse in realtà non è stato inutile. Il nostro dirigente ha comunicato questa password alla direzione generale, per dire se qualcun altro di qualche altro settore del Formez vuole presentare una proposta di progetto tenete presente che dovete chiedere a noi le credenziali per l'accesso. Poi se ne possono creare altri per altri dipartimenti, però intanto bisogna risalire alle credenziali originali per poter procedere sugli altri passanti. Perché vi dico questo? Perché da un confronto avuto con delle colleghe del comune di Roma, il comune di Roma per esempio è molto ben strutturato, ha un ufficio progetti e programmi e le password sono custodite lì. E quando appunto io sono intervenuto nella loro giornata di formazione su questi temi, per loro è stata un'occasione per comunicare a tutti i dipartimenti che anche loro se vogliono presentare proposte di progetto devono rivolgersi all'ufficio programmazione. Vi dico questo perché se voi lavorate per enti che hanno staff numerosi, è importante capire chi deve custodire questa password di modo che quando serve tutti la possano poi condividere. Scusate se ho preso un po' di tempo, ma mi sembrava un punto importante perché noi ci siamo bloccati due o tre giorni. Sì sì, no no, perché è una cosa importante Claudia, perché dicevamo la registrazione lente lo deve fare una volta sola e resta lì in memoria per qualunque progetto voglia presentare un'application, voglia presentare una proposta, quindi sembra una banalità ma in realtà è un suggerimento prezioso, perché sennò poi bisogna cambiare il leader, il leader entity appointed representative, cioè la persona delegata, il rappresentante appunto dell'ente, quindi bisogna cambiare, sostituire. Sì. Ok, scusate, spero che sia venuto meno il fastidio. Comunque allora andiamo avanti, quindi c'è una parte A che è appunto una sezione A dicevamo relativa a tutti i dati, le informazioni amministrative del futuro coordinatore, dei beneficiari e delle eventuali entità affiliate, è il budget di sintesi, questo ve lo anticipo ma lo vedremo meglio fra un pochino. E mi riconduco un po' a quello che vi avevo anticipato rispetto alla firma del grant agreement e quindi alla cosiddetta negoziazione, perché noi possiamo fare un budget, diciamo che per dare la misura del progetto, il dimensionamento economico del progetto, ma è a livello aggregato macro, quindi per categorie di costi che vedremo fra un po'. Non c'è il dettaglio in questa fase, in questo caso non ci chiedono un dettaglio che verrà fornito, condiviso ed eventualmente modificato, se la commissione questo ci chiede o ritiene di doverci chiedere in fase appunto di negoziazione di grant agreement, perché noi possiamo pure dare un dimensionamento al nostro progetto, la commissione può ritenerlo non congruo e quindi accordarci una sovvenzione di importo inferiore a quello inizialmente prospettato. Poi c'è la parte B, che è la parte tecnica, che è come dire il core, la parte centrale, che è la descrizione del nostro progetto, progetto che di solito si organizza, li chiamano work packages, cioè come una sorta di componenti, viene organizzato per componenti, quindi la parte tecnica, la descrizione dei nostri obiettivi, dei risultati, delle azioni, delle attività che poniamo in essere per raggiungere e questa parte non si fa online, cioè si parte dall'online, si fa il download, cioè si scarica il format di application form, la si compila sul locale, quindi non online, se ne fa un pdf e poi si ricarica, si fa l'upload e si ricarica nel sistema. Poi c'è una parte C che può cambiare diciamo a seconda dei diversi programmi, può richiedere dati aggiuntivi eccetera, ma insomma possono cambiare. Diciamo che gli schemi principali sono la parte A e la parte B e la parte degli annex, cioè degli allegati che possono essere richiesti. Dicevamo il budget dettagliato non in questa fase, ma nella fase una volta giudicato il progetto, quindi auspicabilmente nella fase di negoziazione e di preparazione del grant agreement, i CV del personale chiave, delle figure chiave del progetto e se le figure chiave del progetto non sono già identificate e quindi non si può fornire un CV, ci chiedono una job description, fondamentalmente la descrizione della funzione, del ruolo e delle competenze necessarie, perché saranno oggetto di valutazione, come vedremo fra un po'. E poi una sorta di report di attività realizzate dal coordinatore nell'ultimo periodo, in questo caso sì, qua non è specificato, però è degli ultimi anni, salvo che sia un ente pubblico. Gli enti pubblici agli enti pubblici ovviamente non viene richiesto di fornire questo report sulle attività, questo documento di sintesi sulle attività realizzate, che deve includere anche la lista dei progetti precedentemente realizzati, quindi i progetti coerenti nelle aree chiave a cui noi facciamo riferimento con questa proposta progettuale, realizzati negli ultimi quattro anni. Questo serve per far vedere che per dare gli elementi, per valutare la capacità tecnica, che come vedremo è un elemento che viene valutato in ordine al partenariato, per dimostrare che i partner hanno la capacità tecnica, quindi in termini di competenze, esperienze progettuali, eccetera, per, dobbiamo dimostrare che siamo in grado di realizzare, implementare e soprattutto gestire il progetto che proponiamo. E quindi andiamo avanti con una rapida lettura perché il tempo scorre. Qui vi specifico in rosso, ho segnalato, notare che l'anno è l'activity report, quindi questo report annuale non è da intendere come il bilancio, quindi qualcosa di finanziario, il bilancio o un certificato di audit, quindi non è un documento di natura contabile, ma è un report che evidenzi le attività e i progetti dell'organizzazione proponente, quindi dobbiamo dare gli elementi per far conoscere quello che abbiamo realizzato in settori simili e dimostrare che ne siamo. Mara Mars chiede soltanto per il coordinatore, in questo caso sì, del coordinatore, in questo caso chiede il coordinatore, però teniamo presente che nell'application form c'è comunque una parte di descrizione, l'application form è un unico documento che contiene sia una sezione per il coordinatore, ma anche una sezione per tutti i partner, quindi comunque lì c'è una descrizione, lì anche si rappresenta in qualche modo la capacità tecnica dei partner. Dobbiamo dimostrare, dobbiamo nella nostra proposta progettuale, quindi in questa parte B, nella description dell'action, come la chiamano, nella descrizione dell'azione progettuale, mettere in evidenza, prima di tutto far vedere la chiarezza di ruoli e compiti e la complementarietà dei vari partner, cioè che tutti i partner insieme, ognuno per il proprio pezzo, sanno operare e collaborare per il raggiungimento di quei risultati, quindi deve essere chiaro chi fa cosa dal punto di vista tecnico nel progetto e soprattutto dimostrare che lo sanno fare. E poi, per esempio, ancora vi ho sottolineato giù, se vedete, purtroppo non ho un puntatore, ma è alla fine della pagina, le proposte senza questi documenti forniti, i documenti richiesti forniti saranno rigettate, saranno rifiutate. L'application deve essere, va bene, leggibile, accessibile, stampabile, quindi non ci devono essere problemi tecnici, informatici, verificare sempre che quando si ricarica il documento sia perfettamente leggibile e non ci siano errori. Qui precisa addirittura che un limite di 45 pagine nella parte B e che i valutatori delle candidature, delle proposte progettuali non considereranno una sola pagina in più, quindi viene evidenziato il limite delle 45 pagine, che sembra una banalità ma sono cose di ordine pratico, diciamo, che bisogna però tenere assolutamente in considerazione. Ancora parliamo, e poi lo vedremo anche con un repilogo nelle slide, parliamo di elegibilità, cioè di chi può presentare per questa FISH. In questo caso specifico, per questo programma justice, le application devono seguire i seguenti criteri, devono essere entità pubblico-private, quindi possono farlo sia organizzazioni private che pubbliche, che siano costituite, che abbiano sede ovviamente in uno dei paesi partecipanti al programma o anche organizzazioni internazionali. le organizzazioni che abbiano un profit, quindi che hanno per loro natura, siano profit-oriented, devono, possono partecipare, quindi possono partecipare ma in partnership con almeno un'entità pubblica o un'entità privata non profit. Quindi questo è un elemento utile per capire il nostro partenariato che tipologia di soggetti deve avere. Ancora deve essere transnational, quindi anche qui lo specifica bene, deve avere una natura transnazionale e coinvolgere organizzazioni almeno da due stati membri. Teniamo conto che il requisito di almeno due stati membri è ovviamente un requisito minimo, che è previsto quasi da tutte le call for proposal, a volte ne richiedono di più. E poi che la richiesta della sovvenzione, il grant, come lo chiama la commissione, non può essere inferiore, di misura inferiore ai 75 mila euro. I beneficiari e le entità affiliate, le entità affiliate sono una sorta di partner ma diciamo con un ruolo minore nel progetto, possono essere, devono registrarsi appunto nel portale che vi diceva Claudia prima, nel participant register. Posso aggiungere solo una piccola cosa relativamente al partenariato? Quasi sempre loro scrivono che devono esserci almeno due paesi participanti. In realtà noi poi sappiamo che la Commissione Europea preferisce le proposte di progetto con ampi partenariati, perché l'obiettivo, la finalità di queste inviti a presentare proposte è quella di vedere i vari paesi europei che lavorano insieme. Quindi quanti più paesi lavorano insieme, tanto meglio. E la cosa importante è anche cercare di non mettere paesi simili tra di loro per cultura. Sì, chiaramente per alcuni progetti che hanno la valorizzazione di un patrimonio storico che può essere comune a due o tre paesi, è normale che si faccia Grecia, Italia e Spagna. Però per altri progetti, in particolare per i progetti nel settore ambientale, nel settore delle energie, sono favoriti i partenariati tra paesi considerati più evoluti e quelli meno evoluti, proprio perché la finalità è quella, anche a volte di far girare delle buone prassi all'interno dell'Europa e questo può avvenire solo se effettivamente c'è una differenza nel livello di sviluppo tra i vari paesi. Ho fatto, Raffaella, volevo fare questa, solo questo tipo. No, assolutamente l'avrei precisato un po' più avanti, assolutamente giustissima questa precisazione, però integro la tua considerazione, è vero, anche qui come creare un partenariato dal punto di vista geografico. Come diceva Claudia, deve avere un senso, quindi magari un paese meno performante e un paese più performante, se parliamo per esempio, come diceva lei, di tematiche ambientali, sappiamo che il Nord Europa è sempre più avanti, è più green e più sostenibile rispetto agli altri paesi. Quindi può essere strategico, ma è tale da permeare, creare questo trasferimento, questa socializzazione e quindi la capitalizzazione di esperienze più virtuose, con esperienze meno virtuose, affinché ci possa essere una maggiore uniformità di azione a livello europeo. Però attenzione perché il management, come vedremo poi nella slide di riepilogo dei criteri di valutazione, il partenariato non deve essere neppure troppo ampio, perché deve essere anche facilmente governabile, ricordiamoci che dobbiamo rappresentare sempre, quindi dipende molto dal singolo progetto e dall'idea che si ha in mente, perché deve essere quanto più ampio possibile sicuramente, ma non troppo, cioè sempre nella misura in cui sia facilmente governabile e gestibile. E questo ovviamente dipende molto anche dall'esperienza del capofila, perché se noi abbiamo un partner capofila con molta esperienza, con grandi capacità di gestione di progetti europei, di progetti complessi, allora sì, perché poi nella proposta progettuale della componente governance e management dovremo raccontare, rappresentare, come intendiamo gestire i contributi dei vari partner, come vogliamo governare il processo, che governance e che sistema di management, quindi occhio al numero di partner, sicuramente più di due è strategico, assolutamente, sicuramente è strategico, come diceva la mia collega, coinvolgere paesi con diversi livelli di performance, tra virgolette, però attenzione perché tutto è rapportato ovviamente al tipo di progetto e quindi alla capacità del capofila, del lead partner di governare tutto e di rappresentare appunto nella proposta i diversi progetti. C'è una domanda, in alcuni progetti ad esempio si apprezza il coinvolgimento di alcune etnie, ad esempio Roma, beh dipende assolutamente dal programma e dalle finalità, peraltro teniamo conto che ci sono alcuni valori trasversali, come dire, quello dell'attenzione alle politiche di genere, le politiche di green, le politiche inclusione o comunque cercare sempre di andare, è sempre raccomandato di andare a lavorare su target, ovviamente in base all'item, diciamo alla tematica specifica della singola colla, però ci sono alcune raccomandazioni sempre di andare a coinvolgere i target più vulnerabili. La razza è quella, l'Unione Europea ci dà dei finanziamenti, ci sovvenziona per realizzare delle azioni che siano sicuramente innovative, che siano sicuramente trasnazionali, che rispondano a dei bisogni che sono stati precedentemente analizzati e poi dipende, magari su alcuni programmi è ancora più stressato, più evidenziato, più focalizzato questo come dire, questa attenzione, questo focus su particolari gruppi svantaggiati o vulnerabili. Ovviamente le persone naturali non sono elegibili, scorro perché vorrei farvi vedere altre cose, soprattutto la navigazione dal vivo del sito, così capite le varie sezioni. Composizione del consorzio, quindi l'abbiamo detto, almeno due entità da differenti Stati membri e qui restano salve le precisazioni che ha fatto la collega e l'abbiamo già detto, devono coinvolgere il consorzio, almeno un'entità pubblica e un privato non profit come partner. I progetti devono tenere in considerazione quindi quello che vi dicevo prima, la raccomandazione che vi dicevo in apertura. È importante conoscere i progetti che sono stati già finanziati, questo per un duplice motivo, da una parte perché ci può essere utile per coinvolgere e per individuare, per trovare dei partner, con il valore aggiunto che sono partner che già sono come dire experience, cioè che già conoscono, hanno operato nel quadro di questo programma e quindi conoscono le regole del gioco e conoscono un po' come funziona, ma anche perché dobbiamo dimostrare di conoscere quello che il programma ha finanziato, non proporre delle ripetizioni o se è possibile, laddove è possibile ripetere delle capitalizzazioni di quanto già realizzato. Dobbiamo dimostrare bene di conoscere il programma, quello che ha realizzato finora e come eventualmente si va a intersecare, a integrare o a capitalizzare i risultati di altri progetti. Le proposte devono avere luogo nei paesi eligible, quindi ammissibili, abbiamo detto che sono tutti gli stati UE e gli stati membri, gli stati che hanno aderito, associati al programma. La durata in questo caso può essere tra 12 e 24 mesi, ma vedremo per esempio in un'altra fiscia che vorrei farvi vedere molto più rapidamente di questa, che per esempio è prevista una durata triennale, quindi ogni fiscia descrive le regole del gioco e tara, calibra i progetti e quindi noi dobbiamo essere rispondenti e tenere conto tutti gli elementi che la call for proposal ci rappresenta. Ancora qui i progetti devono quei valori trasversali che vi dicevo, i progetti devono cercare di promuovere la parità di genere, è un mainstream, quindi un asset di non discriminazione. Per quanto riguarda la capacità finanziaria operativa, vi dicevo appunto che i partner vengono valutati anche sulla base della capacità tecnica e della capacità finanziaria. Quella finanziaria viene di solito appunto comprovata da una serie di documenti di natura sulla base di documenti che sono forniti quando ci si registra per la prima volta al portale, al participant register, quindi durante la fase della preparazione. Ovviamente con la precisazione, cosa che abbiamo già detto, che non è richiesta per gli enti pubblici o se l'importo richiesto è inferiore ai 60.000 euro. Per quanto riguarda invece la capacità operativa, la capacità operativa e quindi intendiamo il know-how, le competenze tecniche, le risorse, le qualifiche, voglio dire proprio le competenze, il know-how che riesce a dispiegare l'ente proponente o l'ente partecipante, l'ente partner. Gli applicants devono avere qui dice appunto know-how, qualification e risorse adeguate per implementare con successo i progetti e contribuire appunto alla condivisione e devono includere, devono avere esperienze su nell'implementazione di progetti simili e per complessità, per dimensione, per calibro. Questa capacità operativa viene valutata appunto sulla base del profilo generale dello staff, quindi degli elementi chiave, del personale chiave che avevamo detto prima, di cui devono essere prodotti i CV preferibilmente o le job description, se ancora non noti, ma è difficile che non sia nota una figura nel momento in cui presentiamo un progetto, la descrizione appunto dei partecipanti del consorzio con le loro competenze, come si complementano e si integrano, quindi come dimostravo che il consorzio messo insieme come unicum ha tutto il know-how, le competenze, le skill per gestire e implementare il progetto, dalla lista appunto delle attività, del report degli ultimi anni, della lista dei progetti implementati negli ultimi 4 anni e basta. Ovviamente verranno rigettate le particiglie di coloro che rappresenteranno in maniera infedele le informazioni richieste e coloro ovviamente che siano stati coinvolti nella preparazione della call for proposal, questo per evitare conflitti di interesse. La procedura di valutazione, qui vorrei proprio perché qui introduciamo appunto anche i pesi che nella call vengono dati, ovviamente c'è un comitato di valutazione che prima farà un check formale sulla base dei requisiti formali, cioè sull'ammissibilità, sull'eligibilità e poi ci sarà una valutazione diciamo di merito, quelle che formalmente sono ritenute valutabili, poi si procederà appunto alla valutazione sulla base della capacità operativa, come abbiamo appena detto, e dei criteri di aggiudicazione, tutte le proposte come dicevamo riceveranno una lettera di valutazione degli esiti, della valutazione, i criteri, mi sembra importante farvi vedere questo, i criteri che si dà, che definisce la FISH per la valutazione positiva dei progetti e la concessione della sovvenzione, la rilevanza che è un po' quello che vi avevo, cui avevo fatto brevemente c'è anno prima, cioè l'aderenza della proposta a quelle che sono le priorità e gli obiettivi specifici strategici della call for proposal, ecco perché leggiamo benissimo, conosciamo bene il programma, conosciamo, dobbiamo conoscere ancora più il piano annuale o multiannuale di attuazione del programma e dobbiamo conoscere bene la FISH che ovviamente è un'emanazione e non può non essere coerente con il piano annuale. Deve definire bene i target group, quindi i target a cui le azioni si riferiscono, con una prospettiva di genere che sia appropriatamente e debitamente tenuta in considerazione, la valenza, la dimensione europea trasnazionale, quello che diceva Claudia prima, quindi quanto più c'è copertura, ma non copertura di estensione, anche di strategicità di copertura geografica, questo viene valutato, appunto oggetto di valutazione e quindi appunto l'impatto, l'interesse per il numero di paesi, la possibilità di utilizzare, capitalizzare e valorizzare i risultati del progetto, quindi la vera dimensione europea, il cosiddetto valore aggiunto, che queste attività possano essere trasferite e possono avere un'applicazione quanto più ampia possibile, che ne possa beneficiare quanto più paesi possibile, o possono avere una replicabilità, possono avere un valore aggiunto, una valenza europea, il potenziale che possano sviluppare questa cooperation cross border, quindi tra più paesi e al criterio della rilevanza vengono dati 40 punti. Altri 40 punti vengono dati per la qualità, la qualità è un concetto un po' aggregato, deriva dal combinato disposto di tanti altri punti, sicuramente la qualità è la qualità, la coerenza della logica di intervento, ecco perché richiamo metodologico all'inizio al project cycle management, che faremo fra un po', anche al logical framework, cioè all'analisi del quadro logico, perché sono strumenti metodologici che ci aiutano a lavorare in una direzione di maggiore qualità, la definizione della logica di intervento del progetto deve essere ben identificata, deve essere coerente, la metodologia per l'implementazione del progetto, anche qui essere sensibile a una prospettiva di genere, considerare, come dire, deve essere ragionevole, deve essere effettuata con cognizione di causa, la fattibilità anche finanziaria del progetto, il rapporto, il best value for money, il cosiddetto appunto value for money, cioè il rapporto tra costo ed efficacia del progetto, tutti questi elementi rientrano un po' nel cappello del criterio qualità, cui questa collo dà 40 punti per la valutazione, poi c'è l'impatto, cioè che impatto si prevede che abbia il risultato, qual è il progetto, perdonatemi, la dimensione e la strategia per garantirne anche la sostenibilità e quindi la prosecuzione degli effetti del progetto a prescindere o ben oltre la conclusione del progetto, la possibilità che abbia un effetto moltiplicatore, quindi tra virgolette di contaminazione positiva anche con altre applicazioni e questo l'impatto pesa 20 punti nelle criteri di valutazione e quindi qui dice che la soglia minima deve essere di 70 e che però le proposte che superino la soglia individuale della rilevanza devono superare sia la soglia minima, che vedete per la rilevanza è un 25%, che è quella complessiva del 70, quindi quelli che si collocano fra i 70 e i 100 sono possibili, come dire, possono essere oggetto di valutazione. Qui la durata 12-24 mesi, poi qui il dettaglio delle milestone, dei deliverable, cioè dei prodotti che il progetto deve appunto realizzare e tutta questa parte viene definita nella fase di negoziazione, come dicevamo, negoziazione barra preparazione del grant agreement che avrà come annex, quindi come allegato ovviamente la proposta progettuale. Il finanziamento, il cofinanziamento, i parametri vengono anche fissati nel grant agreement, quindi la percentuale della sovvenzione europea e quindi la residua quota che deve mettere il partenariato, deve rendere disponibile anche a conferma del proprio commitment, del proprio impegno alla realizzazione del progetto. E anche qui quello che vi accennavo prima è che la sovvenzione può essere concessa con un importo minore di quello richiesto. Quello che vi dicevo prima, questo aspetto si definisce nella fase di preparazione del grant agreement, ecco perché è importante poi tradurre fedelmente i costi, cioè sovrastimarli può essere controproducente. Quando facciamo il budget dobbiamo fare anche un'analisi, una stima autentica, vera, credibile e ragionevole dei costi, ma è sovradimensionare il budget perché tanto se la Commissione lo ripiene in congruo poi ci propone di abbassarlo e quindi di ridurre proporzionalmente la sovvenzione. In questo caso specifico la sovvenzione arriva fino al 90%, è una delle percentuali più alte e gli altri partner, ognuno in base al proprio contributo che verrà definito nel consortium agreement dovrà cofinanziare il restante 10%. I costi brevemente, qui in questa parte la FISH, non tutte le FISH lo fanno, questa lo fa, quell'altra di Erasmus che vedremo a breve non lo fa, dettaglia, specifica o richiama quelle che sono le categorie di costo ammissibili ma che vedremo appunto a breve e che vi anticipo sono quelle ovviamente del personale, gli eventuali costi di subcontracting, cioè di affidamenti a terzi di parte di attività che il partenariato non può realizzare internamente tra i propri partner, i costi di acquisto, quindi costi relativi alla mobilità, eventuali acquisti di attrezzature se strettamente necessari e indispensabili per la realizzazione delle azioni progettuali ed eventuali altri beni e servizi e poi i costi indiretti che sono sempre stabiliti dalla call che in questo caso sono il 7% ma che normalmente sono sempre il 7% dei costi diretti del costo A e D, quindi del costo del personale, dei subcontracting, dei costi di acquisto, incluse le spese di mobilità e di eventuali altre categorie D che in questo caso non è applicabile, quindi non ve l'ho evidenziato, i costi indiretti che sono quei costi cui l'organizzazione fa fronte ma che non sono direttamente quantificabili, commisurabili, imputabili al progetto, vengono rimborsati in maniera flat, in maniera forfettaria nella misura del 7% calcolato appunto su questa base di costi diretti, elegibili e operativi. Una domanda, Antonietta Bavoro, anche paesi extra web, penso si riferisca ai paesi che possono partecipare al programma, mi scuso l'ho vista solo ora, sì abbiamo visto come Claudia Salvi vi ha fatto vedere bene la volta precedente, per ciascun programma possono partecipare, quello che sto notando diciamo nell'approvazione anche nei nuovi strumenti finanziari, i programmi stivano sempre iniziali, ai paesi dello spazio economico europeo che sono quei tre, Islam, Norvegia e Liechtenstein, poi ai paesi della preadesione, dell'adesione che sarebbero poi i Balcani e un terzo gruppo sono i paesi che beneficiano della politica del vicinato, quindi sono tutti quei paesi che sono ai confini dell'Unione Europea, quindi parliamo del Mediterraneo, del Caucaso e così via. Ora qual è il problema? Che c'è scritto viene indicato che questi paesi possono partecipare, ma prima di includerli nel partenariato è sempre bene verificare con la Commissione se poi questi paesi abbiano effettivamente firmato con la Commissione un memorandum of understanding, in cui praticamente si sancisce la loro partecipazione ufficiale al programma. Tenete presente che questi paesi per poter partecipare al programma utilizzano una fonte di finanziamento a loro dedicate, che nel caso dei paesi della preadesione è lo strumento per la preadesione. Per quanto riguarda invece gli altri paesi, ora c'è questo grosso strumento finanziario che si chiama lo strumento per la cooperazione, il partenariato ora il nome è preciso, non lo ricordo, che però prevede appunto di contribuire con la quota parte la partecipazione di questi paesi. Per alcuni programmi, come che può essere il programma Horizon, che quindi sono programmi molto ampi, è prevista anche la partecipazione con paesi che non rientrano in questi gruppi perché sono considerati paesi industrializzati, tipo gli Stati Uniti, l'Israele e anche lì però in base a degli accordi che l'Unione Europea stipula con questi paesi. Vi devo dire una cosa, una curiosità, l'unica cosa che non ho visto in questa fase è la menzione del Regno Unito, quindi ancora secondo me non ci sono le idee ben chiare a quale titolo potrà essere coinvolto il Regno Unito nell'ambito di questi paesi, perché non stanno rientrando nei paesi dello spazio economico europeo, non rientrano nei paesi della preadessione, dovrebbero rientrare nel gruppo paesi sviluppati, però è probabile pure che verrà sviluppato un nuovo tipo di accordo, ma questo lo vedremo in seguito. Raffaella ci sono in realtà altre domande, vogliamo provare a rispondere qualcuno ora? Sì, sì, allora vedo che Alfonso Rossi Fionieri chiede l'eliminazione, sì, in alcuni template della situazione. Allora in realtà questo dipende assolutamente, è un grosso errore, ma poi dipende, è strano pure che venga lì che sia stato eliminato, forse dipende, ripeto, ogni call è a sé stante, quindi normalmente non è eliminato, normalmente come abbiamo visto prima è l'elemento di valutazione, bisogna rappresentare e dimostrare la capacità di gestione, anzi lo vedremo mi pare nell'altra call se facciamo in tempo a vederla, non lo so, vorrei anche andare avanti e farvi vedere il portale, è proprio l'elemento di valutazione, quindi forse dipende dalle specifiche call, ma comunque nella descrizione dell'azione se non ci fosse nell'application form, ma è difficile, secondo me solo con eccezioni su alcune specifiche call non è prevista la gestione, ma normalmente cerchiamo sempre di rappresentarla nella descrizione, anche perché ripeto, elemento di valutazione, quindi è difficile che non si possa rappresentare, si deve assolutamente rappresentare come la gestione, anche la gestione della qualità, i controlli di qualità del progetto, vengono considerate il costo delle attrezzature del personale destinato a tale progetto, per assenza di risorse proprie impegnabili nel bilancio dell'ente in fase di presentazione del progetto di cui non si conosce l'esito, cosa ne pensa? Sì, tenuto conto appunto che il cofinanziamento varia da call a call e deve essere ripartito tra tutti i partner, quindi poi il cofinanziamento, una precisazione volevo fare, allora la sovvenzione viene erogata come vedremo fra un po' al capofila, che poi però grazie anche agli accordi specifici o alle condizioni contenute nel consortium o partnership agreement, cioè dell'accordo che regolamenta le regole del partenariato, si stabiliscono anche le quote di competenza, quindi lui, il capofila, riceve la sovvenzione in forza del grant agreement, ma a sua volta la deve erogare, girare ai partner, ognuno per la propria competenza, competenza vuol dire per il contributo nella misura in cui, in proporzione al contributo di ciascun partner alla realizzazione del progetto, quindi anche il cofinanziamento viene ripartito tra i partner in funzione della loro, tra virgolette, del loro peso, del loro contributo, perché c'è chi, alcuni partner possono avere un ruolo maggiore, altri partner avere un ruolo più circoscritto in base alle loro competenze, quindi dipende, quindi fatta questa precisazione che il cofinanziamento va ripartito ovviamente fra tutti i partner, nel caso degli enti pubblici assolutamente il costo del personale è il corso, diciamo che è la voce principale che si utilizza per cofinanziare, anche Formez, noi non abbiamo il 90%, abbiamo un 50%, diciamocelo perché insomma è un'attività con una fortissima natura istituzionale, la Commissione europea per gli Europa Direct sovvenziona solo nella misura del 50%, è ovvio che Formez cofinanzierà per il residuo 50% in via principale con il nostro costo, il costo del personale, del personale impegnato nella realizzazione delle attività. E poi Francesca Angelini, la rendicontazione è sempre a costi reali o sono previste rendicontazioni? Allora la rendicontazione dipende, può essere anche mista e anche qui dipende da quello che è previsto dallo specifico, tutti questi aspetti vengono intanto disciplinati nel grant agreement, giusto per collocarlo nel tassello giusto, quindi le modalità di rendicontazione eccetera sono tutte definite lì in uno degli annex del grant agreement e possono essere di solito miste, cioè dipende dalla categoria di costo. Il costo del personale per esempio ovviamente normalmente è il costo aziendale, cioè il costo che è di ognuno di noi all'ordo degli oneri sociali, quindi il costo che l'azienda, l'istituto, l'ente, l'organizzazione sostiene No no, avrei risposto. Poi c'era Stefania Libri che... Però mi avete cancellato la domanda e ora mi sfugge, non so se ho perso qualche cosa No aspetta, però finisco solo un attimo una sola cosa, Claudia scusami, quindi la rendicontazione per alcune voci di costo è l'actual costo, quindi il costo effettivamente sostenuto di cui poi come vedremo fra un pochino se ci arriviamo dobbiamo un po' correre ora, bisognerà poi fornire tutta una serie di documenti di supporto, i timesheet, le buste paga per esempio quando parliamo di costi del personale eccetera. Può essere semplificato invece per alcuni voci di costo come per esempio per i viaggi, soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti per diema, cioè per le spese di mobilità, la spesa di viaggio viene assolutamente quindi il volo diciamo di andate e ritorno per raggiungere un'attività strettamente prevista dal progetto, dal budget eccetera, deve essere chiaramente il costo effettivo sostenuto, debitamente comprovato con tutti i suoi giustificativi di spesa. Però per esempio per le spese di mobilità conviene sempre il suggerimento, sempre quello di adottare la misura dei per diema che sono dei rimborsi forfettari che vengono riconosciuti in base al numero di notti trascorse all'estero, quindi non lo so, per un'attività all'estero di due giorni che implichi un pernottamento verrà riconosciuto questo per diema che è un importo flat forfettario stabilito dalla Commissione Europea, di soldi che c'è un elenco, anzi non so se poi magari Giorgia ci può aiutare a trovare il link al per diema rate, anzi forse l'ho messo nelle slide, quando andiamo nelle slide vi ho riportato il link della Commissione Europea e lì ovviamente le spese è una spesa, una rendicontazione forfettaria perché si rendicontano questo importo flat a prescindere da quanto effettivamente siano state le spese fondamentalmente di vitto e alloggio e trasporti in loco, trasporti locali, questo copre il per diema. Occorre relegare le carte d'imbarco, assolutamente sì, le carte d'imbarco, il titolo, diciamo il titolo di viaggio, quindi con fattura dell'agenzia se comprato con l'agenzia in maniera tale che possa essere riscontrato il costo e le carte d'imbarco per attestare la fruizione del volo. Diciamo che forse non c'è tantissimo altro da precisarvi perché poi queste sono cose un po' specifiche. Solo brevissimamente, prometto che cerco di farlo brevemente, vorrei farvi vedere invece la fiche Erasmus, che questa invece è una fiche aperta, una fiche, una call for proposal. Vedete è un po' diversa, mentre nell'altro nel programma Just c'era proprio cliccando sul portale, ci dava appunto la call for proposal con tutto un identificativo, nel caso di Erasmus, peraltro questo è una call aperta, è stata aperta il 20 aprile 2021 e si concluderà il 7 settembre 2021, quindi già è possibile teoricamente inviare proposte di candidatura. Ho dovuto farne un pdf direttamente dalla piattaforma online perché non era disponibile il documento come l'altro. Anche qui parliamo del programma Erasmus, quindi parliamo di istruzione, formazione e mobilità. Questo specifico call si riferisce alla creazione dell'Erasmus Plus Teacher Academy, quindi senza entrare nella specificità come per il programma giustizia di quello che vuole fare questa specifica fiche, questa specifica call, volevo farvi vedere rapidamente la struttura che è comunque abbastanza simile all'altra, sebbene con un po' di differenza. Anche qui quindi descrive tutte le attività, quelli che sono gli obiettivi e da cui si parte per misurare la rilevanza del nostro progetto, perché la rilevanza come abbiamo già visto è la prima cosa che viene valutata, l'aderenza della nostra proposta progettuale agli obiettivi che vengono declinati, indicati qui. Gli criteri di elegibilità, cioè chi può presentare una candidatura, la propria proposta e quindi qua nello specifico precisa, possono essere partner, full partner, quindi partner a pieno titolo o partner associati. Mi riservavo di dirvelo prima, ma non so se abbiamo tempo, quindi ve lo dico ora. Che vuol dire partner associati? Partner associati vuol dire che sono quei partner che hanno un ruolo tecnico nel progetto, che però è minore e quindi non ricevono una quota di budget. Quindi partecipano, contribuiscono perché magari il loro coinvolgimento è un valore aggiunto dal punto di vista tecnico, strategico, ma non gestiscono quote di budget. Se n'è andata la webcam, non so perché, proviamo a ripristinarla. Quindi dicevo, allora chi può partecipare? In questo caso, per esempio, mentre nell'altro Just chiedevano come requisito minimo enti che emanassero da almeno due stati, membri e o partecipanti al programma, qui richiedono almeno tre partner, ciascuno di tre programmi, di tre paesi diversi, che siano almeno due degli stati membri. Quindi due enti almeno da due stati membri diversi e un terzo membro minimo che può venire dai paesi associati come vi spiegava Claudia. La durata è anche qui fissa in tre anni, mentre in quell'altro, ma perché questa è una cosa specifica, questo è finalizzato a creare, vediamolo rapidamente se non un minimo di contestualizzazione, a fondamentalmente a rafforzare la dimensione europea e internazionale dell'insegnamento, a creare delle accademie d'eccellenza Erasmus perché possano contribuire a migliorare, a innalzare gli standard della formazione iniziale e continua del personale docente, non docente eccetera. Quindi in questo caso è prevista una durata di interventi progettuali di tre anni. Qui ancora la deadline, il 7 settembre sempre alle ore 17 di Bruxelles. Qui c'è l'elenco di attività che possono essere finanziate, che quindi sono riconosciute ammissibili molto celermente, la creazione di network e comunità di pratiche tra gli erogatori di servizi di formazione, di istruzione e formazione per gli insegnanti, le associazioni, organizzazioni pubbliche del settore eccetera, lo sviluppo di sistemi di moduli di apprendimento innovativi ed efficaci per il personale docente eccetera, lo sviluppo di una dimensione europea per l'appunto che includa schemi di mobilità, insomma varie attività. Per dirvi però che per ogni call dobbiamo andare a verificare le attività che ci consentono e quelle che non ci consentono di realizzare. Anche qui un'attenzione all'impatto perché noi con il nostro progetto dobbiamo andare a dimostrare che impatto avrà, quindi sinceriamoci insomma che la nostra azione progettuale sia aderente a quanto richiesto dalla call for proposal. E poi ecco brevemente qua i criteri, mi permetteva solo farvi vedere i criteri che sono un po' diversi e sono molto più dettagliati rispetto a quello del programma Justice che abbiamo appena visto, hanno pesi diversi. Allora intanto la rilevanza gli aveva 40, pesava 40, qui pesa 35 ma non è tanto questo perché ovviamente avranno sempre pesi diversi in base alla FISH e alla volontà dell'autorità contraente, insomma i criteri e gli standard dei parametri che si dà all'autorità contraente che attua il programma, però qui la rilevanza come vi dicevo, quindi la rilevanza che pesa 35 è misurata da tante cose, non so se leggete bene, purtroppo forse non tantissimo, un po' piccolo, però quindi il collegamento alla politica di riferimento, quindi in che misura la proposta è aderente alla politica europea che vuole promuovere il rafforzamento della dimensione europea, di creare uno spazio europeo dell'insegnamento eccetera. La consistency, cioè la coerenza, in che misura la proposta è basata su un'adeguata e opportuna analisi dei fabbisogni. Quello che vi dicevo prima, se ricordate il ciclo della gestione del progetto, che dopo la programmazione c'era l'identificazione, l'identificazione è il primo step, è proprio quella fase di analisi dei fabbisogni, dei problemi, che poi debitamente convertiti in chiave positiva, il PCM di cui vi suggeriamo un approfondimento e che vi anticipiamo, abbiamo messo a vostra disposizione sulla piattaforma Moodle, la trovate lì, proprio il manuale per la formazione che Formez, di cui curò la traduzione dal francese della versione della Commissione europea già nei primi anni del 2000, vi abbiamo reso disponibile questo supporto formativo, questo manuale per la formazione sul PCM, proprio perché lì sono contenute una serie di informazioni di regole preziose che chi non le conoscesse bene conosca per poter presentare una proposta progettuale. Quindi lì si parla proprio della fase di identificazione, come dicevamo prima, che attiene alla fase di analisi di il fabbisogno, cui il progetto intende rispondere con una fase più avanzata, con la progettazione esecutiva e quindi con la definizione di quella logica di intervento che interconnette le azioni, le attività che prevediamo per raggiungere determinati risultati, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi che il progetto si prefigge. Quindi sono tutti elementi di valutazione nella rilevanza, in questo caso la FISH proprio fa riferimento alla coerenza, all'aderenza, in realtà questo è più anche una, comunque fa bisogno all'aderenza ai bisogni espressi cui il progetto intende rispondere, all'approccio innovativo che il progetto si dà, precisando qui che innovativo non si intende solamente l'innovazione di merito, di contenuto, ma anche l'approccio, il coinvolgimento di contesti magari particolari per cui il coinvolgimento magari può risultare innovativo o alle modalità di coinvolgimento, insomma approccio innovativo in senso ampio, dipende sempre dal progetto che abbiamo in mente e che dobbiamo sviluppare con i nostri partner e non prepararlo a tavolino e coinvolgere i partner dopo, questo è un elemento molto importante che vi ribadiamo e vi sottolineiamo. La cooperazione, la partner, il valore europeo, l'European added value, il valore aggiunto europeo, cioè dimostrare che sarebbe stato difficile realizzare il progetto senza una cooperazione tra più stati membri, le digital skills, le attività riferite appunto allo sviluppo di competenze nel settore digitale, le green skills, perché ovviamente qui si parla di creazione delle accademie di formazione per il personale docente, ovviamente che c'è un focus un po' in coerenza con quello che vi ha detto la collega negli appuntamenti precedenti con il tema del digitale, della transizione digitale, della transizione verde, sappiamo bene che sono le grandi priorità che ci impegnano, che impegnano l'Unione Europea nei prossimi anni, quindi è ovvio che i progetti ognuno per la propria competenza deve concorrere in un'ottica di convergenza, quindi qui raccomandano appunto l'attenzione alla formazione del personale docente e prestano particolare attenzione a questi temi delle competenze digitali e dello screen e delle green skills, così come la dimensione sociale, un po' quello che era stato osservato da qualche partecipante, quindi rivolgersi a target, cercare di essere quanto più inclusivi possibile. Però brevemente, quindi dicevamo, qui eravamo nella rilevanza, questa fish al progetto, alla qualità del progetto e all'implementazione, al sistema di implementazione riconosce un peso di 25 punti e per qualità del progetto, vi dicevo in apertura che la qualità del progetto è un po' un combinato disposto di tanti elementi per la Commissione Europea, giustamente, quindi si riferisce alla coerenza, quindi quello che dicevamo alla logica di intervento, a quello che noi definiamo in progettazione esecutiva, quello che il PCM definisce la seconda fase, la fase di formulazione, quindi la coerenza della logica di intervento, la metodologia che viene utilizzata, le strutture di management e qui rispondo appunto a quella domanda di quel partecipante che prima poneva il problema proprio che avessero eliminato, qui addirittura c'è proprio, è molto stressata, è molto evidenziata l'attenzione al management, al dimostrare la capacità di mettere in piedi una struttura che gestisca il progetto in maniera appropriata eccetera. Comunque brevemente andiamo avanti, questo solo per dire appunto come ciascuna call for proposal vada letta con attenzione perché da lì dobbiamo partire per sviluppare il nostro progetto, poi altri 20 punti questa call la riconosce alla qualità della partnership e dei cooperation arrangement, cioè degli accordi che si sono presi in seno in capo al partnership e come vengono regolamentati e al ruolo di ciascun partner, quindi alla strategicità dei partner che dobbiamo mettere, è un disegno come dire, deve essere molto pensata questa azione di costruzione del partenariato. Ancora qui raccomanda appunto la dimensione geografica, quindi la copertura geografica raccomanda che i partner vengano da differenti aree geografiche e che si possano coinvolgere attori sia a livello locale che regionale, quindi anche i livelli che coinvolgiamo di partnership se appartenente per esempio a amministrazioni pubbliche di livello regionale dipende molto dal progetto che abbiamo in mente e da quello che vogliamo sviluppare. Poi il commitment, cioè la distribuzione, l'impegno, la distribuzione delle responsabilità e dei compiti in capo a ciascun partner che sia chiara, appropriata e che sia ben definita e che prevera appunto un attivo o contributo di ciascuna organizzazione partner. E ancora e poi i task che il coordinatore dimostri, perché ovviamente il capofile, il coordinatore, il lead partner è quello che deve comprovare in primis le capacità gestionali, che abbia degli standard di gestione di alta qualità e la capacità di coordinare progetti di una certa complessità a livello trasnazionale, eccetera, eccetera. E poi l'impatto, 20 punti, per impatto si intende la capacità del progetto, della proposta di dimostrare l'impatto del suo progetto, come possa essere garantita la valorizzazione e la capitalizzazione dei risultati del progetto. La disseminazione, quindi la divulgazione e anche eventualmente la trasferibilità o comunque la massima divulgazione all'attività deve essere ben chiara, strutturata, con degli indicatori, misurata, oggetto di controllo. Insomma ci vuole un certo rigore metodologico e per questo ancora una volta vi raccomandiamo a coloro che non lo conoscessero di avere una lettura di quel manuale che, ripeto, trovate insieme ad altri materiali utili messo a vostra disposizione sulla piattaforma Moodle, eccetera. Il tempo scorre, quindi io finirei qui, vabbè, vediamo la scadenza sia il 7 settembre, cosa... Ah, ecco un altro elemento, ma questo lo vediamo sul portale, partner search. Questo è un elemento importante che ho dimenticato di farvi vedere prima. La cosa è che... e tornerei a questo punto un attimo sulle slide, Giorgia, per favore, per poi chiudere con un flash sulla navigazione. Grazie. Perché lo vediamo appunto a breve. Ah beh, qui non mi soffermo, qui ripiroghiamo, le slide ovviamente sono a vostra disposizione e qui riprendiamo un po' i principi, i criteri di valutazione che però abbiamo appena visto specificati dalle diverse call for proposal, per cui vado veloce su questo, solo un riepilogo di quello che vi ho fatto vedere direttamente nel documento della colla. E qui appunto abbiamo già detto a qualità il progetto è un elemento aggregato che dipende da una serie di componenti e quindi l'impostazione e la concezione, la complementarietà con altri progetti già finanziati, il tenere conto e capitalizzare i risultati realizzati nell'ambito di altre proposte progettuali, la qualità dei risultati in termini di creare e di capacità di generare dei significativi impatti, l'approccio utilizzato, metodologico, la logica di intervento, la coerenza del piano di azione, la componente di divulgazione e di disseminazione, perché ovviamente è un principio interesse per l'Unione Europea non solo finanziare progetti di valore, quindi qualitativamente validi e innovativi, ma anche che i frutti di questi progetti vengano adeguatamente disseminati e divulgati laddove possibile anche per un'applicazione pratica, se no viene un po' meno il fatto del valore aggiunto europeo se poi non può essere disseminato a livello europeo in maniera adeguata. Il partenariato e la gestione, l'abbiamo già detto, e poi un po' il rapporto costi-benefici, quindi appunto la pertinenza dei costi rispetto agli output di progetti e l'appropriatezza, ragionevolezza del tutto. Questa nuvoletta, per dirvi appunto che non è un fumetto, ma insomma l'invito a guardare, ovviamente non lo possiamo entrare nel merito, ma l'invito proprio a fare ricorso al project cycle management, al manuale PCM che ripeto è a vostra disposizione su Moodle, proprio perché vi fornisce tutta una serie di strumenti e comunque vi fa entrare un po' in quella che è la logica che dobbiamo adottare, che dobbiamo metabolizzare per questo lavoro di analisi e di formulazione del progetto, ma che fornisce importanti strumenti anche per quanto riguarda la gestione del progetto, quindi in fase di implementazione e pensiamo proprio a tutto il sistema degli indicatori utili per il sistema di monitoraggio e di controllo della qualità del progetto, eccetera. Quindi su questo solo un invito ad approfondire. Brevemente il partenariato, abbiamo già visto insomma molte di queste cose, quindi sorvolo, solo per dire appunto, abbiamo già parlato di tutti questi punti, analizzando le call for proposal, solo per mettervi in evidenza l'ultimo punto, cioè quello delle diverse tipologie, c'è il coordinatore capofile, ne abbiamo parlato, è colui che è responsabile, che rappresenta tutto il consorzio, tutti i partner dinanzi alla commissione, quindi è quello che assume la responsabilità contrattuale in nome e per conto del partenariato tutto, ed è quello che fa il grant agreement, lo negozio, eccetera. Poi ci sono i partner che realizzano proprio le diverse attività e abbiamo già parlato del contributo di ciascuno e quindi anche del relativo contributo a titolo di sovvenzione e del cofinanziamento che devono ognuno contribuire a dare, il partner associato che abbiamo detto che partecipa, magari può essere strategico coinvolgere un partner piuttosto che un altro per motivi appunto di opportunità, strategicità, ma non riceve quote di budget e il subcontractor, l'abbiamo già detto, bisogna sempre verificare nei documenti del programma o nella FISH se ci sono specifiche previsioni, ma normalmente sono ammissibili, comunque nella call for proposal bisogna sempre verificare eventuali disposizioni specifiche su questo. Il capofila l'abbiamo già detto e quindi andrei avanti, solo questo anche del grant agreement diciamo che appunto si compone appunto di una parte iniziale che sono le condizioni speciali, che poi in realtà queste parti sono un po' uno standard europeo che viene però riempito con le clausole che si applicano al caso di specie, al programma specifico e alla call specifica. Poi c'è la descrizione dell'azione che appunto è l'allegato tecnico, che è quello che noi carichiamo in fase di proposta progettuale, di candidatura della nostra proposta progettuale, poi ci sono le condizioni generali, anche quello è uno standard che definisce la parte delle obblighi delle parti, gli aspetti legali, eventuali risoluzioni dei conflitti, norme sul trattamento dei dati eccetera, ma ripeto sono uno standard, e poi le disposizioni finanziarie che comprendono appunto il budget che in fase di application, quindi di candidatura, avremo fornito in maniera solo aggregata, macro, per categorie di spesa, che invece in fase di preparazione del grant agreement, come abbiamo detto, dobbiamo dettagliare, vi faccio vedere a breve un esempio di come trovare un partner, allora l'abbiamo accennato prima, sulla banca dati presente in ciascun sul portale dei tender e delle opportunità europee che abbiamo visto, e questo è importante, sulla ancora più importante lista di progetti già approvati e vi avevo già segnalato il vantaggio per il coinvolgimento di questi eventuali partner che abbiano già avuto finanziamenti precedenti, tra l'altro può essere anche ragionevole, soprattutto se noi non siamo ben strutturati, magari siamo le prime armi, ovviamente reitero e vi rilancio un suggerimento che aveva già dato Claudia negli appuntamenti precedenti, la raccomandazione è quello magari di partecipare come partner e di unirvi a un partenariato in fase di costituzione e quindi con un capofila che abbia già esperienza, in maniera tale che nel frattempo voi facciate l'esperienza necessaria perché magari per la prossima call siate voi a essere capofila, per esempio. Ecco, queste sono schermate che però forse non si vedono bene della portale, io provo a condividere magari lo schermo perché vi volevo proprio segnalare come qui, vabbè ma magari ci andiamo direttamente, questi sono degli esempi, ci andrei direttamente, l'application form l'abbiamo vista, allora mi prendo solo un minuto per finire l'accenno alla parte economica, quindi agli aspetti di budget e poi cerchiamo di navigare due minuti sul portale per farvelo vedere dal vivo. Alcuni principi generali, ovviamente quello del cofinanziamento e ne abbiamo parlato abbondantemente, quello della regola che non ci può essere il doppio finanziamento ovviamente e vedete come in fase di application c'è una sezione in cui vi chiedono proprio di dichiarare le eventuali sovvenzioni che abbiate ricevuto per qualunque tipo di azione, proprio perché la Commissione si deve sincerare che quella specificazione non sia finanziata più volte. La regola del no profit l'abbiamo già accennato perché è tipica proprio per la sovvenzione, quindi data la finalità istituzionale appunto delle call for proposal e quindi l'accenno al fatto che se un determinato progetto dovesse generare delle entrate e quindi creare dei margini di profitto, questi devono essere dichiarati e dedotti, decurtati dalla sovvenzione che la Commissione dà e poi i costi elegibili, intendendo per costi elegibili appunto intanto quelli sostenuti nel periodo contrattuale, non prima e non dopo, quelli strettamente necessari e indispensabili per la realizzazione dell'azione che quindi siano previsti nel progetto, che siano identificabili, verificabili, accertabili, debitamente supportati da documenti giustificativi, ragionevoli e giustificati. E poi appunto le diverse categorie di spese che sono appunto quelle che avevamo accennato già alla FISH di la call che avevamo visto prima declinava, i costi di personale, le spese di viaggio, anche qui accennavamo al misto, cioè al sistema di rimborso, diciamo, alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ma anche delle subsistence allowances come importi forfettari e quindi con questa facilitazione e questi però ne abbiamo già parlato del budget. Ecco, questo è uno schema di budget che peraltro trovate unitamente ad altri materiali su Moodle, questo è quello che vi viene chiesto in fase di produrre, in fase di candidatura per quanto riguarda quella call for proposal del programma Just che abbiamo analizzato. Quindi come vedete è a livello aggregato per categorie di costo. Qui bisogna dire tutto il costo del personale a quanto ammonta, le eventuali spese di mobilità a quanto, eventuali acquisti eccetera, dichiarare tutti i costi diretti dell'azione ma a livello aggregato, poi calcolare il 7% e invece in fase di negoziazione poi in realtà la Commissione fornisce dei budget, delle griglie, dei fogli di lavoro molto più dettagliati in cui si deve mettere e rappresentare appunto il costo dettagliato affinché la Commissione possa valutarne la congruità e valutare eventualmente se non ritenere di ridurne l'importo e questo va fatto per ogni work package, cioè per ogni componente del progetto però rappresentando i costi di ciascun partner. Materiali utili allora ve l'avevo già accennato, troverete su Moodle il project cycle management tradotto al Formez credo nel lontano 2002 che è appunto questo strumento metodologico prezioso in uso nel sistema delle Nazioni Unite della Commissione europea già dagli anni 90 che è proprio uno strumento per migliorare l'efficacia, il concepimento, la concezione dei progetti e la gestione dei progetti affinché siano sempre di maggiore qualità. Trovate anche il manuale del funzionamento del portale EU funding tender quindi proprio dove trovate tutte le informazioni e un passaggio come dire un prendervi per mano step by step e trovate tutte le informazioni su come effettuare la registrazione e utilizzare il portale e poi a titolo di esempio ovviamente perché c'è chi di voi può essere interessato a un tema piuttosto che a un altro quindi solo come esempio vi abbiamo di Horizon Europe ha fornito il programma di lavoro per il 2021 è un esempio di template di formato per l'application form così che ovviamente è molto più complicato Horizon Europe è un programmone come già vi ha rappresentato Claudia di una molto ambizioso ma anche molto complesso articolato quindi sapete che l'apre il punto di contatto nazionale però se volete vedere un po' di format europei potrebbe essere utile così come per Erasmus Plus vi abbiamo fornito sia la guida al programma questo perché solo di questi programmi al momento erano disponibili ma di solito ciascun programma tematico ha una sua guida al programma che aiuta la comprensione del programma dei suoi obiettivi delle sue attività e del suo sistema di funzionamento e poi il programma di lavoro del 2021 e del programma Just il programma di lavoro che in questo caso è biennale 21 22 quindi coloro che fossero addetti ai lavori del settore giudiziario e fossero interessati sappiate che il programma di lavoro già stabilisce per quest'anno e per il prossimo come verranno lanciate le call for proposal su quali temi eccetera eccetera è un esempio di schema di budget in ultimo vi segnalo sempre per coloro che fossero interessati a Horizon che è prevista una giornata di formazione in apre che il punto di contatto nazionale che tutte queste informazioni le trovate sempre sul sito europa.formez.it dove trovate tutti gli aggiornamenti sia in ordine ai programmi comunitari che appunto Claudia preziosamente aggiorna quasi in tempo reale con tutti i bandi e quant'altro ma anche eventuali aggiornamenti in merito a giornate informative sui programmi o altri eventi mancano due minuti io proverei a far vedere se vogliamo provare a rispondere a qualche domanda non so Claudia io intanto provo a condividere ah sì 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 volevo anche far vedere solamente rapidamente il il portale che la sezione non so se la vedete vi chiedo una conferma vocale Claudia perché non vedo la chat vi volevo segnalare intanto questa sezione project result ok dove è possibile selezionare il periodo di programmazione quindi in questo caso 14 20 perché questo programma è appunto è stato è per esempio potremmo selezionare il programma e qui ci fa vedere tutti i progetti che sono stati finanziati poi vi segnalo come cercare questa sezione qui search funding tender search funding qui si trovano tutte le call for proposal potete selezionare intanto ovviamente deflaggate i tender perché abbiamo chiarito che noi non ci rivolgiamo ai tender che sono commerciali ma solo ai grant quindi alle sovvenzioni e qui li potete selezionare per stato quindi quelli attualmente aperti oppure quelli di prossimo lancio potete selezionare per periodo di programmazione eh 14 20 o 21 27 oppure potete selezionare per specifico programma quindi coloro che fossero interessati al programma live possono selezionare per specifico programma e vi anticipo che ancora non c'è nulla su live ehm questa è la sezione del login dove vi dovete registrare in alto a destra non so se vedete da qui che bisogna partire si crea un account e questo è il primo step che vi diceva Claudia di registrazione alla piattaforma vi registrate ora non possiamo andare avanti ma insomma eh molto rapidamente solo per dirvi anche che quando andate per esempio su questo solo vi volevo precisare per esempio se andate su un ehm per esempio andiamo sul programma quello justice la cosa importante eh ok è che su ogni call c'è la sezione che è successo perché non lo prende comunque c'è una sezione ehm ok per esempio questo era quello che vedevamo no? Questa era la fiscia che abbiamo letto rapidamente insieme e vi segnalo questa sezione come cercare il partner qui voi potete una volta che siete registrati potete o richiedere voi presentare la vostra se voi stesse richiedere eh una partnership o vedere come vedete su quella call che abbiamo esaminato insieme ci sono aperte ventisette richieste di partnership quindi potete addirittura una dell'università degli studi di Palermo potete cliccare su ciascuna di esse e mh e avete come dire dei validi strumenti per conoscere nuovi partner eh potete selezionarli per requisiti per area geografica eccetera eccetera eh interrompo la condivisione eh sì perché mh vabbè una cosa la può forse questa la posso rispondere se vogliamo rispondere a qualche domanda velocemente non lo so cosa ne pensate del bando pubblicato dal comune di Roma per la ricerca di privati da inserire in una short list di partner per la presentazione dei progetti finanziati dalla UE in realtà io ho fatto parte di una formazione al comune di Roma proprio su questo tema eh dove praticamente esiste per le pubbliche amministrazioni un obbligo di pubblicare il bando anche solo per la selezione dei partner perché altrimenti i privati potrebbero dire perché in quel partenariato avete scelto uno piuttosto che un altro quindi attraverso la pubblicazione del bando viene creata questa short list quindi sì se siete interessati a collaborare con il comune di Roma per qualche progetto iscrivetevi nella short list è un obbligo che loro hanno di poter perché per poter selezionare i partner devono per forza andare a pescare da questa lista quindi è tutto normale non è il solo il comune di Roma che lo fa lo fanno anche altri enti pubblici questo invece lascerei rispondere a te Raffaella tra i costi potrebbe rientrare anche un project manager solo così l'ente locale potrebbe risolvere il problema ma delle professionalità scusami sì sì assolutamente la assolutamente nel senso che i costi si riferiscono al personale dipendente ma anche al personale eventualmente da coinvolgere da per quello specifico progetto quindi non so anche le collaborazioni per intenderci quindi se uno non ha al proprio interno la professionalità specifica può preparare è ammesso il costo anche per figure impegnate con contratti di collaborazione spero insomma che di avere di essere riuscita a fornirmi informazioni utili e non troppo confuse e vedevo Claudia una domanda sugli attestati dicevano immaginiamo di riceverli via mail no in realtà precisiamo che l'attestato è fatto compilata con l'anagrafica che vi diceva Claudia e credono che non vadano fatti altri passaggi una volta dato il tempo a noi a chiusura progetto a chiusura percorso di attestare le vostre presenze e quindi di elaborare un po' di dati dopodiché dovrebbe dovresti noi attestiamo alla vostra presenza devo dirci la verità questa cosa penso che sia così ma la dobbiamo un attimo verificare non so se per caso Fabio lo sa ha già capito come funziona e ce lo può dire altrimenti poi vi manderemo comunque una comunicazione via mail o sulla piattaforma come se si sia via mail o comunque nel forum in piattaforma riceverete tutte le informazioni ma credo che possono scaricarlo online direttamente da eventi pia ma vi daremo conferma appunto sul sul io volevo volevo solo salutare e ringraziarvi per aver partecipato a questa buca speriamo che vi siano piaciuti voglio cogliere sempre l'occasione per ringraziare nuovamente tutto il nostro staff che è stato impegnato che ha lavorato tantissimo per la riuscita di questo webinar vedo che fanno i complimenti a raffaella mi associo ai complimenti io conosco raffaella da molti anni e vi assicuro che i progetti seguiti le proposte di progetto presentate da raffaella per il 90 per cento hanno sempre avuto esito positivo e quando non hanno avuto positivo non era colpa di raffaella ma perché c'era evidentemente qualche problema o della credere nella costituzione del partenariato altro sì che raffaella è stata molto chiara molto esaustiva continuate a seguirci nelle attività speriamo di potervi offrire anche questo percorso per diciamo le competenze digitali che dovrebbe essere interessante sono un'occasione di formazione gratuita che la siciliana che la regione siciliana sta offrendo ai cittadini quindi vi consiglio di partecipare perché veramente un po una situazione quasi unica in italia che con diciamo dei soldi della destinati all'informazione e alla comunicazione in realtà siano stati poi utilizzati per formare cittadini e i dipendenti di enti pubblici quindi siamo grati alla regione siciliana per aver avuto questa intuizione e niente vi volevo salutare due secondi a tutto il nostro staff di di accendere il video così li salutiamo io ho rimesso la tua slide con i prossimi appuntamenti anche per loro di salutare voi quindi Marta, Giorgia, Fabio se cortesemente apparite in video e così salutiamo tutti i nostri partecipanti ecco le belle faccine sorridenti del nostro staff come potete vedere perché questo è stato anche il piacere di lavorare con uno staff simpatico competente e allegro ecco anche il nostro Fabio che ci cortina e ci calma perché un geneco, un uomo e mezzo alle donne le quote azzurre, abbiamo anche noi le quote azzurre ci vediamo prossimamente per altre iniziative grazie a tutti se potete vi aspettiamo l'undici maggio con le elezioni di Europa arrivederci a tutti grazie a tutti